Prosegue speditamente la premendita dei biglietti per assistere alla partita Gela-Castelbuono che si disputerà domenica con un inizio previsto alle 16 al Vincenzo Presti che potrebbe rappresentare la pietra miliare per la promozione diretta in Serie D del club bianco-azzurro. Ancora una volta, così come era successo nella precedente gara casalinga del Gela, la dirigenza capitanata dal presidente Angelo Tuccio ha puntato tutto sulla sensibilizzazione verso i più giovani a recarsi allo stadio per sostenere la squadra della propria città. Ed in quest'ottica si inquadra la decisione della società di permettere l'ingresso gratuito a tutti i bambini fino agli 11 anni mentre pagheranno appena 1 euro tutti gli studenti dalle scuole medie e superiori della città che acquisteranno il tagliando presso le scuole di appartenenza dove degli addetti del Gela Calcio si stanno recando in questi giorni. Prezzi invariati invece per gli adulti che pagheranno 8 euro in tribuna coperta e 5 euro in curva mentre per le donne il costo del biglietto è di 5 euro in tribuna coperta e 3 euro in curva. Chi si accomoderà in gradinata riservata ai tifosi ospiti pagherà 8 euro. La partita di domenica prossima, per l'ultimo turno della stagione regolare in eccellenza, potrebbe riservare qualche straordinaria sorpresa. Il Gela intanto dovrà far suo il bottino in pario e, lo abbiamo detto già in altre circostanze, non sarà proprio una passeggiata di piacere considerato che il Castelbuono dello squalificato Mister Salvoricca è una squadra che gioca un buon calcio ed ambisce ai play-off. Ma se da Grotte, dove sarà impegnata la vice capolista sancataldese, dovesse arrivare qualche notizia imprevista, in questo caso un mancato successo di Verde Amaranto, allora la giornata potrebbe colorarsi ancora di più di biancazzurro. Ma intanto il Gela, lo ribadiamo, è chiamato a centrare la sesta vittoria di fila.